Le fiamme gialle della tenenza di Canicattì, diretti dal PM Andramagioni, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno scoperto al termine di una complessa attività investigativa che nei giorni scorsi ha visto le notifiche degli avvisi di conclusione indagini una truffa ai danni dell'Inps, perpetrata da due imprese agricole operanti in diversi comuni dell'Agrigentino. L'analisi dei documenti contabili effettuata dai militari ha permesso di smascherare un fraudolento modus operandi postenessere da due titolari delle aziende che, mediante la presentazione di documenti attestanti rapporti di lavoro in realtà del tutto inesistenti, hanno indotto in errore l'Inps in ordine all'esistenza di tali ditte. L'effettivo svolgimento delle giornate agricole da parte dei braccianti formalmente assunti e dalla sussistenza in capo a quest'ultimi dei requisiti necessari per aver diritto all'erogazione delle indennità, consentendo così ai 32 lavoratori fittizi l'indebita percezione tra il 2008 e il 2011 di indennità assistenziali e prevenziali per un ammontare complessivo pari a 150 mila euro. Numerosi gli elementi oggettivi che hanno portato i finanziari a dimostrare la fittizietà delle imprese agricole coinvolte. La completa assenza di sedi operative, l'omessa presentazione delle previste dichiarazioni di redditi e l'assenza di qualsivoglia bene strumentale atto a condurre dell'azienda nonché dei requisiti minimi necessari per poter svolgere una qualsiasi attività di impresa agricola. I titolari delle aziende e tutti i lavoratori fantasma sono stati deferiti alle autorità giudiziarie competente per essersi resi responsabili tra l'altro del reato di truffa aggravata ai danni dell'Inps. La procura ha emesso gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari che sono stati notificati ai 34 responsabili.